Io il giorno 3 pomeriggio ero verso le 7 e mezza, perché si è sposato il mio nipote e abbiamo fatto un piccolo rinfresco così, gli ho voluto regalare questa festa. Alla fine della festa, verso mezzanotte e mezzo luna, siamo ritornati a casa e mi hanno rubato, ho visto che mi hanno rubato in casa. Mi hanno portato via tutto, la mia motoretta elettrica, quella che mi dà Banfo, perché sono disabile al 100%, mi hanno rubato computer, mi hanno rubato 800 euro, due televisioni, tagliaerbe, motoseghe e via dicendo. Qui a Eschitella che è un paesino tranquillo, penso che non dovrebbero succedere queste cose, ma la cosa che mi dà fastidio è un ragazzo disabile come me al 100% che vado in comune, dove noi dovremmo essere tutelati tra virgolette dalla legge e dal comune ci dovrebbe dare una mano e non mi danno niente. Io non riesco a camminare, a fare tanta strada, ho bisogno di quella motoretta, ora mi trovo qui in paese perché così riesco a farmi due passi anch'io, anch'io ho diritto di vivere come tutte le altre persone, ma se mi portano via tutto, mi portano via anche la motoretta dei disabili, che non so cosa ce ne faranno, però a me mi faceva comodo perché mi facevo i miei servizi, mi andavo in giro e mi divertivo anch'io insomma. Adesso non so come fare perché Banfo a noi ce la dà ogni sei anni e non lo so come devo fare. Questa è la storia e quelli che hanno fatto questa cosa si mettessero la mano sulla coscienza perché io disabile, mia mamma ha 78 anni, ci hanno portato via tutto, ci hanno un po' da vergognarsi perché le persone se hanno qualcosa da dire o venissero in faccia a dire le cose, non che vanno a rovinare una famiglia. Una, ultimamente qua in Schitella se ne sono tanti di furti, poi non so cosa dire, non ho più parole, speriamo che qualcuno mi aiuti, che ci sia di buon cuore, che abbia una motoretta simile a quella che avevo io e me la può imprestare, me la può fin quando e vediamo Banfo cosa mi risponde con la denuncia in mano, se me le danno un'altra per muovermi anch'io, insomma tutto qui. Aspetto la risposta con la denuncia in mano quando mi recherò di Banfo, l'Istituto Banfo Ortopedico di Foggia e vediamo se o se c'è qualcuno, ripeto, che mi può aiutare, che ce n'ha una che me la può imprestare in questi giorni. Ovviamente io farò attenzione, gliel'alterò buona per muovermi anch'io perché non so proprio come fare, non lo so. Mi sono dovuto spostare anche qui perché io così riesco a muovermi, quel pochettino riesco a muovermi tutto lì perché dalla campagna a venire a Eschitella, anche se chiedi chi vuole 5 euro, chi vuole 10 euro, chi vuole 20 euro per portarti in paese e anche questo non mi sembra giusto o una cosa del genere. E mi trovo qui, ma soprattutto anche per muovermi perché sono in paese, qualche festa, qualche cosa, perché dalla campagna qua sono 3 chilometri andare. Poi soprattutto i pulmar, alle 9 di sera è l'ultimo pulmar, se chiedi a qualcuno, ripeto, vogliono 5, 10 euro, 20 euro per portarti in campagna, quindi uno non può andare a rubare come hanno fatto gli altri in casa mia per affrontare tutte queste cose, tutto lì. Premettendo che questa qui è la seconda volta che a me mi rubano in campagna e quale è successo la prima volta, mia madre è andata, è andata in comune perché gli avevano rubato ancora soldi e tutto il resto, è andata a chiedere un aiuto per arrivare alla fine del mese, l'assistente sociale ci ha permesso di prendere 5 euro e dargli solo 5 euro e gli ha detto ti vai a fare la spesa. Questa è una vergogna, è una vergogna assoluta. Il sindaco che abbiamo sta facendo cose buone, perché si vede, Eschitella sta facendo cose buone. Però, caro sindaco, mi rivolgo proprio a lei, per i disabili, perché ne siamo anche tanti qui a Eschitella, facci qualcosa di più. Avete un pulmino per visite quello e quell'altro? Fate qualcosa di più. Ok, veniteci incontro a noi disabili, non ci abbandonate.